Una giornata significativa ed indelebile per ogni carabiniere quella del giuramento. Stamane circa 500 gli allievi carabinieri appartenenti al 140esimo corso formativo intitolato alla memoria del carabiniere Filippo Bonaviticola a compiere il giuramento nel piazzale della scuola carabinieri Eugenio Frate di Campobasso. Noi abbiamo degli erroramenti notevoli, sono circa 4.000 o un po' di più ogni anno che formiamo nelle nostre scuole con un corso di sei mesi. Molisani e non ovviamente. Ovviamente, Molisani e non. Vengono da tutta Italia, in cui alla scuola di Campobasso sono prevalentemente abruzzesi, molisani, pugliesi e campani, diciamo, visto che abbiamo anche le scuole a Torino, a Iglesias, a Campobasso, a Taranto, a Roma e a Reggio Calabria. L'importanza di avere un'istituzione così nella città di Campobasso? Beh, da sempre il connubio tra la scuola dei carabinieri e la città di Campobasso è un'attività importante, è una presenza importante e realizziamo moltissime sinergie. Alcune le avete sentite citate nel mio discorso, a favore della cittadinanza, il torneo di pallavolo, il quadrangolare di pallavolo, oppure le donazioni di sangue, oppure le conferenze che facciamo unitamente all'università o alle scuole. e quindi abbiamo un interscambio continuo con la cittadinanza. Noi facciamo parte di questa città, viviamo in questa città e cerchiamo di aprirci il più possibile a questa città. Giuro! Gli esseri è la Repubblica! Italia! Italia! La sedesta! E' il mio... Gli esseri è la Repubblica!